I carabinieri della sezione antidoping del reparto analisi con il supporto del NAS di Napoli, a conclusione di un'articolata indagine coordinata dal sostituto procuratore Federico Manotti della Procura di Massa, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cauterare. Gli arrestati, due in carcere e due domiciliari, sono ritenuti responsabili di commercio di sostanze d'azione dopante e d'associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica, falsificazione di certificati medici sportivi e reati di natura fiscale. Nell'operazione che ha permesso di individuare due segmenti criminosi operanti del mondo sportivo, sia professionistico che ammatoriale, ci sono complessivamente 12 indagati. Un primo gruppo, capeggiato da un ex ciclista professionista, aveva costituito una rete illecita di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione di sostanze dopanti ad atleti sportivi. Un secondo segmento investigativo, emerso nelle verifiche di illecite prestazioni sanitarie specialistiche, ha permesso di delineare e smantellare un'associazione per delinquere finalizzata alla sistematica falsificazione di certificazioni mediche, in particolare per l'idoneità dell'attività sportiva agonistica, nonché all'esercizio abusivo della professione medica e alla commissione di reati di natura fiscale. In particolare, il suo dalizio era diretto da un medico appartenente alla Federazione Medici Sportivi, in associazione con due collaboratori con base logistica in uno studio di Ottaviano, frequentato principalmente da ciclisti amatoriali e sportivi di varie discipline.